Sono Claudio Cerati, fondatore di Upstream. Abbiamo partecipato già dal 2017 all'edizione di Wine Hunter presentando la Waffa. La stessa Waffa è stata premiata nel 2017 e nel 2018 con il premio Platinum. Nel 2019 abbiamo presentato la nuova confezione Gold Edition, la quale è stata premiata con il Platinum nello stesso anno e quest'anno siamo in gara per il Platinum con lo stesso prodotto che è la Gold Edition. La Gold Edition è una selezione praticamente del cuore di filetto lavorata ad una ad una singolarmente. Quindi un prodotto molto particolare e molto adatto anche come regalo per le festività natalizie in quanto la si può acquistare anche con l'Ore di Bile. Grazie.